Caro Lico, siamo arrivati al tuo test di lingua sarda. Vediamo quanto ho imparato in questi anni in Sardegna. In domo dei su ferreri, schidone l'inna. Mamma mia. Ti do un indizio. Ferreri e il fabbro. In domo vuol dire in casa. In casa del fabbro, schidone l'inna. Schidone l'inna. È troppo difficile questo. Questo è complicato un po', eh. Ti do la risposta. In casa del fabbro, spiedo di legno. In domo dei su ferreri, schidone l'inna. Proviamo la seconda. Questa è facile. Cento concasa, cento berritasa. Concentrati prima su cento concasa. Cento. Ok. Cento anni. No. Testa. Bravo. Cento berritasa. Cento teste. Un accessorio che si mette in testa. Capello. Bravo. Cento teste. Cento capelli. Bravo. Cento concasa, cento berritasa. Piragotta. Piragrua. Dognuno in domusua. Mangiare. No. Ricotta. No. Un frutto. Piragrua è cosa? La grana? È la pera. Ok. Cotto. Bravo. Pera cotta e pera? Cruda. Bravo. Dognuno in domusua. Ricordati il primo che hai detto? Troppo complicato. È a casa. Bravo. Ognuno a casa propria. A casa sua. Piragotta, piragrua. Dognuno a domusua. Per vederci in greco si chiama addio. Addio. A Sibiria tutti. Ciao. A Sibiria tutti. A Sibiria. A Sibiria tutti. Grazie a tutti